eccoci qua amici del canale juventus e buonasera appena finita la partita mi sono visto con dei colleghi avevo pronosticato un 1 a 1 a lione stasera non siamo riusciti andare neanche oltre la sconfitta meritata una sconfitta che ha palesato ormai lo possiamo dire io credo il fallimento almeno per quest'anno della stagione per Sarri perché io questa squadra non credo che passi contro lione a torino non credo che recuperi e anche se dovesse recuperare poi va fuori i quarti come l'anno scorso questa è una squadra che oltre a palesare problemi di tipo atletico non solo non solo non rende per una questione prettamente fisica è una squadra senza capo né coda perché i giocatori non sanno dopo sei mesi che sono allenati da quest'annatore non sanno quello che devono fare quando è il momento di fare le sovrapposizioni non si intendono vanno a chiudersi in uno sterile giropalla proprio per la mancanza di idee proprio per la mancanza della consapevolezza di come si devono muovere in sincronia e come devono sia nella fase difensiva che nella fase offensiva quindi l'eventuale realizzazione di reti peraltro scarsa è sempre lasciata alle inventive personali dei campioni che alcuni casi sopperiscono all'aridità del gioco e come stasera non hanno superito adesso quello che che verrà sarà inevitabilmente un'eliminazione se non a metà marzo comunque aprile dalla champions non agli ottavi e quarti quindi un grosso danno anche economico e molto probabilmente ora la domanda che ci facciamo è questa bisogna continuare e dare comunque un'opportunità al nuovo allenatore oppure ricambiare dopo un anno io su questo non so darmi una risposta non so darmi una risposta anche perché bisognerebbe essere all'interno dello spogliatoio e o interno all'ambiente vedere se questa mancanza chiamiamola di apprendimento questa mancanza di di nervo della squadra niente grinta niente idee niente combattività è dovuta anche al fatto che forse i giocatori non capendo cosa devono fare non lo seguono più cioè lui sta parlando al vento non so cosa dire siamo alla fine di febbraio a marzo ci doveva essere come uno si aspettava ci doveva essere un un arrivo a un'ottima condizione psicofisica ma soprattutto aver ben immagazzinato gli insegnamenti e appreso gli insegnamenti di questo nuovo allenatore però non si vede nulla non si vede nulla perché la squadra non sa difendere non sa creare gioco e non anche in fase realizzativa quindi di conseguenza non non arriva alla finalizzazione ora io penso che io darei alla questione fisica io non darei adesso una grande importanza si sarà una concausa ma la vedo come il 30 40 per cento della motivazione per cui questa squadra non rende io vedo giocatori senza idee giocatori che sono in un'anarchia più totale che nel loro ruolo tengono cerca di tenere la posizione ma alla fine non comunicano non comunicano trame di gioco non vedo una trama di gioco non vedo un'idea non vedo qualcosa di di propositivo il gol che si prendono sono imbarazzanti oggi abbiamo preso un gol veramente un giocatore che non poteva passare lì è passato ha fatto quello che ha voluto alessandro inguardabile non solo nell'occasione del gol che non ha chiuso ma è un giocatore inutile pianice è un giocatore dannoso ha fatto due assist oggi anche stasera agli avversari alla fine si butta dentro un bernardese così a caso che non si sa più neanche se è un giocatore di calcio o se passa e passeggia lì per il campo e va per funghi questa è una squadra che è sfuggita dalle mani dell'allenatore che l'allenatore non è più in grado più di plasmare non è più in grado di impartirgli quello che sarebbe il suo ideale di gioco e di impostazione quindi mi vuole dirlo ma per quest'anno l'esperimento Sarri è finito è finito perché così non può andare avanti e è giusto che finisca perché non è giusto che si diano i meriti e i demeriti e quindi stasera ha meritato più il Lione come in campionato hanno meritato più la Lazio quelli che ci hanno battuto Napoli eccetera quindi adesso la parola al nostro presidente vediamo cosa vuol fare se dare tempo e spazio ancora e aspettare questo nuovo allenatore o ricambiare tutto un'altra volta non lo so non lo so veramente non vorrei essere nei suoi panni nei suoi panni limitatamente a questa decisione perché per il resto ci piacerebbe davvero essere panni di Agnelli e non vedo non si vede la luce in fondo al tunnel tanto per utilizzare una una metafora che mi piacerebbe utilizzare però che non posso veramente utilizzare io va brutta io va vergognosa 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 perché non meno male che non lo so non io ho veramente vedere questi campioni qui ridotti a perdere con delle squadre mediocre questa è una squadra che è sesta o settima nella Ligue M francese una Ligue dove c'è solo il Paris Saint Germain di squadre a livello europeo quindi dopo il Paris Saint Germain ci sono cinque squadre ancora e poi c'è questo Lyon imbarazzante e vergognoso direi molto vergognoso se vogliamo continuare così anche quest'altro anno vediamo se non ci sono avvisaglie di un miglioramento beh non lo so comunque scrivete quello che pensate sotto sono arrivati i messaggi degli allegriani, degli allegrietti sono classici atteggiamenti alla Sigori io l'avevo detto, io l'avevo detto io l'avevo detto, io l'avevo detto sono non si possono neanche prendere in considerazione perché Allegri ha fatto quello che ha fatto ha raggiunto dei risultati e il suo ciclo era finito quindi bisognava cambiare e quando si cambia non ha detto che si cambia meglio o che si cambia peggio per ora sono d'accordo con loro che si è cambiato non in meglio però voglio dire cosa vuol dire? volevate ancora Allegri? adesso è facile dire a Babbo Morto dire eh però io l'avevo detto mi sembra una situazione di comodo peraltro anche perché sapevate tutti che Allegri comunque era da cambiare era da cambiare perché non avrebbe ormai aveva dato al mondo Juventus quello che poteva dare quindi aziendalisti Allegretti aziendalisti da una parte vi posso dire che non non concordo con dire sempre sia la società che la società adesso deve rendersi conto che non è solo colpa di Sarri che ha fatto un mercato anche un non mercato e quindi ne stiamo pagando le conseguenze questo devo dire agli aziendalisti e le colpe dell'allenatore ma anche la società e agli Allegretti dire venire dopo a Babbo Morto dire io l'avevo detto non ha proprio nessun senso non ha proprio nessun senso è un ragionamento fine a se stesso è come quello che aspetta la fine della partita ed era io lo sapevo che perdeva oggi la Juve no io l'avevo detto per me pareggiava sono troppo ottimista scrivete quello che ne pensate qua sotto dite di iscriversi a questo canale e sempre Forza Juve comunque fino alla fine